È una vera e propria anteprima in Italia e si svolgerà ad Arezzo dall'8 dicembre al 7 gennaio. Alla Galleria Imago di Via Vittorio Veneto sarà possibile ammirare alcune delle fotografie realizzate dalla fotografa franco-americana Vivian Mayer. Sebbene la sua produzione, come testimoniano le migliaia di rullini fotografici ritrovati, sia imponente, sono pochissimi gli scatti che invece sono stati sviluppati su carta dalla stessa artista. La particolarità di questa esposizione è che per la prima volta in Italia avremo un corpus di 70 foto inedite, mai viste prima e tra le poche immagini stampate direttamente dalla fotografa stessa a Chicago. Lei fondamentalmente ha stampato pochissime delle sue fotografie che sono state ritrovate poco dopo la sua morte, sono state sviluppate poi da John Maloof che fondamentalmente l'ha resa famosa. Sicuramente Vivian Mayer rappresenta un po' l'apice, uno degli apici, ma uno dei più importanti per quanto riguarda questa espressione. Fotografare infatti oggigiorno con i cellulari, con le compattine turistiche, sia un po' banalizzato. In realtà la fotografia non è soltanto un mezzo per documentare quello che succede, per documentare un momento anche di divertimento, ma è in realtà principalmente un modo per esprimere le proprie sensazioni, le proprie emozioni, rendere la fotografia una forma d'arte. Vivian Mayer e come lei tanti fotografi artisti erano molto abili nella capacità di esprimere quello che provavano all'interno del proprio cuore.